L'istituto musicale Braga scende in piazza, o meglio il Braga scende sotto la loggia del comune in piazza Orsini e suonerà per 12 ore consecutive. A parlare sarà la musica. L'iniziativa serve a sensibilizzare la città di Teramo alla risoluzione dei tanti problemi di un istituto musicale che ha sempre più voglia di far parlare di sé e di stare tra la gente. Un stop musicale che è stata pensata per dare la voce, in questo caso con il linguaggio della musica, allievi, ex allievi e anche docenti dell'istituto. Cerchiamo di stare tra la gente per promuovere quello che è il discorso legato alla scuola, quindi non solo la scuola in sé per sé, ma anche dare una luce su quello che è il processo di statizzazione che sta andando a compimento e sottolinearlo anche nei confronti degli enti finanziatori che devono andare a discutere questa convenzione di funzionamento dell'istituto. Direttore, come avete organizzato questa giornata? 12 ore di musica? 12 ore di musica e non solo di musica classica, quindi ci saranno vari generi, molti gruppi che si alterneranno. Avremo dei piccoli momenti di riflessione, in particolar modo alla conclusione della giornata a Santa Maria Abitetto alle ore 21, 21 e 30. Faremo un incontro con i cittadini, con le rappresentanze politiche, chiunque voglia parlare del Braga e del futuro del Braga. Il Consiglio di Amministrazione del Braga che cosa si aspetta da questa iniziativa? Noi abbiamo già incominciato una serie di incontri politici che hanno messo tanto in piedi una trattativa per aprire questa strada per la Convenzione. La Convenzione è indispensabile iniziare subito a trovare la sede, ne abbiamo già parlato l'ultimo question time con il Sindaco e quindi sabato ci incontriamo con la cittadinanza, 120 anni di storia, non si possono cancellare con una disattenzione della città, del Sindaco, di tutto l'apparato politico che poi riporterebbe a perdere, come già si è perso il teatro a Teramo, anche un'istituzione prestigiosa, sarebbe la terza università della musica dell'Abruzzo. Quindi stiamo parlando di una situazione che ormai storicamente non si può più togliere e che poi passeremmo veramente alla storia per essere una generazione che ha voluto cancellare la storia. Parla la musica prenderà il via sabato 19 settembre dalle ore 9 alle ore 21.